Siamo durante un fine settimana che è diventato rovente per la questione dell'impiantistica sportiva. Crotone Informa segue questo argomento non tanto e non solo dall'avvento del commissario prefettizio Costantino, ma da molto prima, già un anno fa, adesso è poco più di un anno che abbiamo fatto uno speciale, assieme al professor Claudio Perri, l'ex assessore Frisenda, l'allora presidente della commissione comunale Pisano Pagliaroli, con Salvatore Regalino che salutiamo, un altro collega che segue questa vicenda con grande attenzione. Ci sembra che le parole di nuovo superino di tanto i fatti. E allora per permettere anche a quei valorosi combattenti che hanno ruotato attorno al consorzio i momenti di gloria e che pareva fino a qualche giorno fa fossero gli unici interessati a questa vicenda con la famosa più volte resistenza di fronte a tribunali che hanno dato le ragioni a questo consorzio, adesso ci si rende conto che quello che dicevamo a Crotone Informa non l'anno scorso, non due settimane fa, non cinque anni fa quando parlavamo di canestri regalati agli zingari a ferro vecchio, giusto per fare qualche esempio, che riguarda invece una questione molto ma molto importante, che è l'approccio istituzionale, politico, programmatico nei confronti di un mondo, quello sportivo, che ancora una volta viene o bistrattato oppure innalzato a vessillo e entrambe le cose, almeno a noi, non piacciono. Per fare un po' di chiarezza sull'escursus e per avere anche un rapporto politico-programmatico proprio, perché sì, anche i giornali, anche l'editoria è chiamata a fare programmazione, a indicare delle strade oppure a criticare, perché questo è il ruolo delle sentinelle della democrazia, questo ruolo a noi piace. siamo venuti a insultare quello che è stato il papà, diciamo, di un primo approccio programmatico, da allora assessore allo sport e contemporaneamente massimo rappresentante del CONI in provincia, perché fu chiamato da tecnico e da tecnico si comportò. Quindi noi col professore Claudio Perri vorremmo fare un piccolo escursus e un'analisi di quelli che sono state le ultime iniziative della Crea barra commissario prefettizio, con le varie polemiche, e quindi chiediamo subito al professore Perri, ringraziandolo dell'ennesima disponibilità, sembrerebbe quasi, iniziamo con una battuta, che tutto quello che ha permesso a iniziare un approccio conflittuale con il Consorzio Momenti di Gloria, solo come espediente, poi l'abbiamo visto e lo vedremo, cioè indicare che addirittura il Consorzio Momenti di Gloria non avesse titolo per approcciare alla gestione del Palamilone, invece nelle premesse di un atto dello stesso commissario prefettizio, caro professore Perri, invece si dice che come la legge ci indica e indica a loro, si può dare l'impiantistica sportiva anche di rilevanza economica in via diretta, siamo su scherzi a parte. Quindi nel 2012 il sessore Perri aveva operato nel giusto? Pensiamo proprio di sì. Allora caro Procolo, ieri come dicevi è stata una giornata particolarmente dura anche per me, perché leggendo i giornali, leggendo i social, leggo delle notizie sicuramente che mi hanno non destabilizzato ma mi hanno veramente, come dire, portato ad un livello tale di esasperazione che vorrei esplodere e gridare qual è la verità. Ma mi conosci per persona pacata, così come mi conosce credo per persona pacata anche il commissario prefettizio, al quale ho sempre riconosciuto, fin da quando si è insediato e ha scoperchiato questa pentola, secondo lei, di avere ragione nel pretendere la regolarizzazione delle strutture sportive. Quello che cercò di fare l'assessore Perri quando fu chiamato da tecnico perché non abbiamo fatto politica in vita mia, però una cosa posso dire, e di questo mi dovete perdonare la presunzione. Gli altri possono parlare nel generico e nel vago. L'assessore Perri, Claudio Perri, ex atleta, ex tecnico della palla a mano Crotone fino alla Serie 2, ex presidente del CONI, prima e delegato del CONI dopo, ex assessore allo sport, ha un'esperienza maturata sul campo e anche nella gestione di una struttura, che era il palacro, che nessun altro ha. Quindi quando Claudio Perri parla, sa quello che deve dire e da dove deve partire. Quindi sicuramente il commissario ricorderà che ho detto, ha ragione, bisogna regolarizzare, però attenzione, una cosa è regolarizzare e quindi, come dire, mettere tutti sullo stesso piano perché non ci possono essere figli e figliastri. Quello che trovò l'assessore Perri quando arrivò a svolgere il suo mandato e da quello partì il regolamento che l'assessore Perri fece. Perché l'assessore Perri veniva al palacro, al palacro ci facevamo carico di tutto, compreso luce e gas. L'acqua non era prevista perché c'era un rapporto gratuito, adesso non ricordo nei dettagli. insieme al compianto Egidio Carbone, il grande, grande amico, grande appassionato come me di sport, sapessi quante volte abbiamo messo mano nelle nostre tasche. Va bene. Quindi che cosa succede? Praticamente arrivo e trovo questa situazione. C'era lo stadio, una convenzione firmata per 210 mila euro all'anno che io stesso riconoscevo Esosa, particolarmente Esosa. Nonostante parlassimo dell'unica società sportiva professionistica. Sì, però io debbo dire un'altra cosa, che è quella che finalmente sono arrivati a capire perché quello che leggo ieri con le determine che ho visto, firmate questa volta dal commissario e dall'ingegnere Gangemi, allora si può fare l'affidamento diretto. Quindi aveva ragione l'assessore Perry quando diceva certo, perché lo stadio, io riconosco che porta, ha portato a Crotone la Serie A, porta un'immagine positiva della città, porta tifosi che vengono da fuori, ma anche andare a un bar, prendere un caffè, l'albergo che ospita la squadra, cioè c'è un'economia che si muove. Quindi da cittadino, prima ancora che da amministratore, io dico c'è un qualcosa che va tutelato. 210 mila euro mi sembravano esagerati, però era vero pure che a quel momento era l'unica struttura che produceva reddito, perché lì ci sono i biglietti, ci sono gli abbonamenti, c'è la pubblicità. Signori, attenzione, una quota della pubblicità per legge va al Comune. Io non lo so se è mai stato dato un centesimo di questo al Comune. Ci dovrebbe rispondere l'ingegnere Camgemi, il commissario Prefettizio, perché nella premessa, nella famosa premessa di Determia, c'è scritto pure che sono state fatte le verifiche, anche del passato. Mi fa piacere, di questo sono convinto, mi fa piacere. Quindi praticamente io trovo questa situazione, quindi nessuno pagava lo stadio, io dovevo regolamentare, però io venivo dal mondo dello sport. E dal mondo dello sport io devo dire, ma io sono venuto qui, e questo lo devo ribadire, a fare cassa sui poveri e lasciare ai ricchi, per ricchi intendo una società che ha dei ricavi attraverso lo stadio, e faccio pagare i poveri? Mi viene chiesto, perché viene convocata la società, la società dichiara di essere una situazione economica un pochino disastrata, si minaccia addirittura di lasciare la squadra, per cui mi viene chiesto di soprassedere, cosa che io faccio con pacatezza, perché riconosco quello che può essere il valore aggiunto di una squadra in Serie A, che ci porta immagine positiva, visibilità, eccetera. Però non posso poi andare a caricare, sulle associazioni sportive direttantistiche, quelle che vivono dei 30 euro, perché attenzione, attenzione, permettimi una parentesi, io ieri devo riconoscere l'amarezza che leggo nel comunicato del commissario straordinario, la capisco questa amarezza, però quando leggo, chi parla oggi ha forse dimenticato quanto è avvenuto nel recente passato sulla gestione dell'impiantistica sportiva. Commissario, ma lei che cosa ne sa? Che cosa ne sa? Lei sta venendo da una realtà completamente diversa. Lei che cosa ne sa? Di quello che è stata la realtà sportiva. Gliela sto raccontando quella che è stata la realtà. E non facciamo sempre riferimento alla piscina, perché lì sono altri fattori. Lì c'è un'indagine della magistratura che sta andando avanti. Io le posso garantire che quelle associazioni a cui ho affidato provvisoriamente andavano regolarizzate con l'iter burocratico che si è interrotto quando l'assessore Perri viene sostituito, non è colpa mia. Però quelle associazioni hanno fatto fede a quello che era il regolamento comunale, hanno mantenuto quelle che erano le tariffe previste, che parlavano di 30 euro mensili, va bene, per tre volte settimanali. Cioè io a quella gente, ancora oggi, da cittadino, non da assessore, dico grazie perché mi avete tenuto aperte le strutture, me le avete pulite, anche dopo le manifestazioni varie, organizzate da comune, chiesa e quant'altro, c'è stato di tutto, va bene? Se ne occupavano le associazioni per venire incontro a chi aveva riconosciuto il loro valore, quello che facevano per lo sport e soprattutto per il mondo dei nostri giovani. Un attimo solo, perché sotto questo aspetto mi piacerebbe, caro Claudio, che tu facessi un'altra chiosa. L'hai fatta più volte, anche nel famoso speciale di cui parlavo prima. Che importanza aveva la consulta dello sport in quell'atto lì? E quanto sarebbe importante oggi, alla luce anche delle dichiarazioni del commissario Costantino, che dice, ah, Accrea doveva dire che era incontemporanea. Ma per arrivare a utilizzare in contemporanea una struttura, che lavoro dal punto di vista psicopedagogico, mi permetto di dire questa cosa a un insegnante, è necessario compiere? Ma guarda, ricorderai che in un precedente incontro che noi abbiamo avuto, con un ex assessore, con il presidente della commissione, direttore sport, addirittura ci veniva dichiarato che la consulta comunale allo sport era partita. Beh, io a questo punto, mi dispiace dirlo, ma probabilmente chi mi ha sostituito non ha capito nulla. Non ha capito nulla e non ha fatto nulla, perché nel momento in cui arriva, ci trova tre regolamenti che l'assessore Berri aveva strutturato e fatto approvare dal Consiglio Comunale. Il primo era proprio la consulta comunale dello sport, stumento di grande democrazia, che consentiva una composizione di un organismo che non aveva potere deliberativo, ma sicuramente consultivo, ma che poteva dire la sua su quella che era la problematica sportiva. Mai entrato in funzione. Chi è succeduto ha trovato un regolamento della gestione e utilizzo dei grandi impianti sportivi, non era compresa la piscina perché ancora non era completata, c'era ancora il cantiere. Primo stralcio dei lavori della piscina, sottolineiamo, era il primo stralcio che stavano completando e trova il regolamento delle palestre scolastiche che prima dell'avvento di chi ha cercato di regolarizzare quella situazione praticamente era, come dire, concesse, le palestre erano concesse o non concesse, a piacimento del dirigente, del Consiglio Comunale. Lo dico io, Claudio, così non ti prendi querele tu. Erano gestite da bidelli che incassavano cash, alcune quote, e da assessori che facevano clientelismo sulla segnazione su carte straccio del Comune. Beh, l'assessore Perri, grazie anche al suo ruolo di insegnante, grazie all'amicizia con alcuni dirigenti scolastici che condivisero il suo percorso, il suo progetto di poter utilizzare le strutture sportive scolastiche comunali, e quindi parliamo delle palestre delle scuole primarie e scuole medie da parte delle associazioni da un certo orario in poi perché è chiaro che l'utilizzo è prioritario per le scuole e poi successivamente dalle 18 in poi nessuna scuola fa attività si poteva strutturare. Un'altra cosa, vedi, un'altra parentesi che mi amareggia. Ieri leggo l'ex presidente della provincia, il carissimo amico, e lo sottolineo, il carissimo amico, Carmine Talarico, dichiara che è la colpa della situazione degli impianti sportivi e colpa dell'amministrazione e vallone. Ma caro Carmine, dovremmo incontrarci e forse se ascolti questa intervista forse puoi capire tante cose, ma quello che mi meraviglia caro amico Carmine, tu sei stato presidente della provincia, forse hai dimenticato quello che è successo alla piscina Pertini, forse non sai come venivano gestite le palestre delle scuole di pertinenza provinciale. Ritorniamo al discorso che faceva poco fa Procolo. Allora caro Carmine, ti prego, prima di sparare, di sparare così a zero, anche perché ricordo perfettamente, caro Carmine, quando durante le trasmissioni televisive, sportive, che conducevi, ti gloriavi, come dire, e questo te lo devo riconoscere, davi risalto alle altre discipline sportive perché i risultati prestigiosi che conseguivano e quindi poi invece che facciamo? Diamo addosso come sta avvenendo perché è quello che sta avvenendo. Io quando ho letto le tariffe, signori credetemi, sono saltato dalla sedia perché scusatemi, forse non abbiamo capito una cosa. A livello nazionale il governo sta lavorando perché riconosce che è un periodo tremendo, non tremendo, di più, spaventoso. Non sappiamo settembre, ottobre, che cosa ci porterà per questo coronavirus. Se le associazioni sportive riprenderanno le proprie attività, se i ragazzi avranno la possibilità di pagare un minimo di rettio perché molti... Se i genitori se i genitori no, se la sentiranno di rischiare fra virgolette anche dal punto di vista esclusivamente sanitario. Tu sai quanta gente ha perso il lavoro, sai quanta gente praticamente, vedi, a questo spesso le associazioni sportive di attantisti crotonesi hanno fatto fronte nel senso che facevano fare attività gratis a decine e decine di ragazzi e te lo dice uno che l'ha fatto. Va bene? Quindi praticamente il governo lancia un allarme, si adopera affinché si trovino dei contributi e un sostegno allo sport dilettantistico che rischia di morire e attenzione perché se muore lo sport dilettantistico non guardate soltanto i risultati agonistici perché lì c'è l'atleta che sta venendo fuori, il talento che domani parteciperà ai campionati regionali, nazionali, internazionali, mondiali, alle Olimpiadi perché lo sport parte dalla base, ok? Signori, c'è di più, i nostri ragazzi dove andranno il pomeriggio quando sono liberi dalla scuola e finiscono, completano i compiti, se prima avevano una casa dove essere guidati, educati perché abbiamo provveduto anche ad educarli i ragazzi e a tirarli fuori da determinate situazioni. Potrei raccontarti un episodio che ci è successo lo scorso anno insieme all'amico Satiro della Palacanestro nella mia scuola ho individuato un ragazzo un talento eccezionale, credimi, eccezionale. Sono convinto che un ragazzo del genere in una realtà diversa del nord Italia forse fra due anni sarebbe a giocare nei massimi campionati italiani di basket e probabilmente lo adocchierebbero anche in America. Credimi, il miglior talento che ho avuto nella mia vita. Ragazzo problematico insieme alla famiglia, insieme ai carabinieri, insieme a Giancarlo lo abbiamo tirato fuori, gli abbiamo consentito di fare attività, di trovare delle motivazioni nuove, di trovare quel qualcosa che gli potesse dare la cosa di dire ma io perché devo vivere un contesto degradato quando posso essere? Mi spiego? Che poi, caro Claudio, è l'essenza del talento, l'abbiamo visto, è inutile fare esempi su Maradona, su quelli più conosciuti, ma quando c'è disagio e lo sport ti insegna come il disagio indichi una strada alternativa. Dentro questo concetto vorrei che tu ritornassi proprio su quello nazionale, prima di ritornare sulle tariffe, ancora prima di ritornare sulle tariffe. Mercoledì tutte le società dei tre settori fanno una conferenza stampa alla quale ovviamente noi andremo e per segnare diciamo quello che può essere io immagino, mi auguro, ecco, gli consiglio di non parlare solo di queste cose di cui stiamo parlando oggi, ma soprattutto di quello che potrebbe essere la consulta dello sport. Mi viene in mente un esempio sotto questo aspetto. Il governo ha esautorato il coni dello strumento economico e se lo è portato al Ministero. Quanto sarebbe importante anche per smetterla di sembrare quelli che sono i tifosi del calcio contro quegli altri oppure quegli altri ancora? Il Crotone Calcio ha una persona che si è formata professionalmente che è di grandissimo rilievo che è Luigi Pignolo lo saluto che è diciamo il direttore di quello che si occupa dell'immagine del marketing del merchandising del Crotone Calcio. Quanto sarebbe importante che all'interno della consulta con il Crotone Calcio con Luigi Pignolo che ha ormai un'esperienza professionistica veramente di altissimo rilievo riconosciuta in Lega per esempio se ne si potesse occupare anche dentro il consorzio dei consorsi la consulta chiamiamolo come vogliamo utilizzare un sistema che il Ministero dello Sport ha così riconosciuto così importante da annetterselo dentro il Ministero e non lasciarlo al CONI parliamoci chiaro qua parliamo di una cosa che conosci altrettanto bene esautorando forse il compito specifico del CONI che si occupava più della lira. Questo era un tentativo che il governo erano parecchi anni che cercava di fare ritornare come dire in un certo qual modo a governare il mondo dello sport anche perché bisogna riconoscerlo purtroppo ci sono state delle situazioni poco chiare ci sono state delle federazioni che sono state commissariate perché i bilanci sono risultati un pochino come dire hanno creato perplessità tutte queste cose qui per cui al CONI diciamo è rimasta soltanto la parte che riguarda la preparazione agonistica vera e propria quindi la preparazione degli atleti per le varie competizioni di cui ti parlavo prima fino alle Olimpiadi mentre invece questa sport e salute questa nuova società si occupa di quello che è il patrimonio del CONI quindi delle strutture degli impiegati del personale e dello sport nella scuola e che tutto sommato ci può stare purtroppo i due poli diciamo tardano a trovare degli accordi tardano a discutere però hai ragione perché vedi le figure come quelle che tu citavi di questa persona di cui mi facevi il nome ma noi di questa gente che abbiamo bisogno cioè quando noi andiamo a strutturare un regolamento quando noi andiamo a fissare delle tariffe allora avvaliamoci di persone che l'hanno vissuto lo sport che ne hanno competenze ed esperienze non andiamo come dire a creare delle cose allucinanti e vorrei ritornare a quello da cui eravamo partiti quindi il mondo dello sport nazionale si interessa e cerca questi fondi per aiutare la società che stanno per chiudere e morire a livello locale invece noi andiamo a sdangarlo andiamo ad ammazzarlo lo sport quello sport e tu lo sai benissimo che nella nostra città era forse uno dei pochi elementi positivi che avevamo di cui potevamo onorarci di cui potevamo gloriarci dei propri risultati a costo diciamo irrisorio perché se vogliamo vedere quelli che realmente sono i costi delle strutture Palacro Palamilone settore B stiamo parlando di bazzecole stiamo parlando di bazzecole e ti dico di più c'è stato un incontro al ministero tu lo sai certo bene nessuno ha comunicato quello che è venuto fuori da questo incontro io so tutto io ho gli amici a Crotone ma ce li ho anche a Roma e so perfettamente quello che è venuto fuori da questo incontro so perfettamente quante risate si sono fatte e hanno capito che poi in effetti da dove stava la ragione dove stava il torto dove stava l'esperienza e la competenza e dove stava perdonatemi l'ignoranza noi andiamo a fissare e a forzare l'acquisizione di un servizio ad una società in house che nel proprio statuto non prevede quel servizio ma ci siamo resi conto in che condizioni è la città dal punto di vista della pulizia della spazzatura e della manutenzione del verde pubblico allora per favore lasciamo ad Acrea quello che è il proprio compito che lo svolgesse nel miglior modo possibile perché una città io sempre quando sono stato fuori due cose mi hanno colpito di una città la pulizia e il verde pubblico come era curato gli impianti sportivi sono le prime due grandi immagini di una città guarda caso è quello di cui stiamo parlando ad Acrea lasciamo il compito di gestire il verde pubblico e la spazzatura non andiamo a caricarla di questo quando lo stesso neopresidente questo lo dice a Roma lo stesso neopresidente al ministero dichiara io non ho la struttura e la possibilità di poter fare un servizio del genere e noi l'obblighiamo andiamo dal notario a firmare una cosa commissario ma voglio dire ma perché tutto questo quando con molta pagatezza con molto equilibrio si fa un passo indietro e si dice lasciamo ad Acrea a questo servizio troviamo una persona che possa essere ecco l'elemento che tu mi dicevi poco fa la persona che mi dicevi poco fa ma dentro un quadro di collegialità io parlavo di Luigi dal punto di vista della promozione perché ovviamente se si promuove la pubblicità dentro tre strutture ovviamente è diverso anche da una soltanto quindi dentro un quadro di promozione che possa permettere proprio alle società sportive di fare solo quello per cui sono chiamate perché invece tu ci raccontavi Claudio che gli Egidio Carbone Claudio Perri Pino Bevi l'acqua no Faga no si sono dovuti preoccupare di mantenere gli equilibri in famiglia per nascondere quanto mano al portafoglio dovevano prendeva la pensione e la metteva a disposizione dei suoi ragazzi con quella ritmo scassata che caricava come un furgone ma io le ho viste queste cose e oggi sento che cosa è avvenuto nel recente passato sull'impiantismo ma che cosa ne sapete di che cosa è stato lo sportacrotone di chi ha fatto veramente il pionerismo e oggi che abbiamo delle strutture che il comune dovrebbe affidarci ma spingendoci ad entrare perché cari signori quello che è venuto fuori anche al ministero guardate che ci sono città in Italia che spendono milioni per la gestione perché mettiamocelo ficchiamocelo perdonatemi il tema ficchiamocelo in testa una volta per tutte senza il contributo del comune le associazioni sportive non potranno mai gestire un impianto perché i costi non li reggeranno perché non hanno queste capacità di entrate non stiamo parlando di uno stadio dove ci sono ripeto biglietti abbonamenti pubblicità benvenga per il crotone calcio mi fa piacere speriamo che vada sempre più avanti ma qui stiamo parlando dello sport dilettantistico quello che vive veramente del sacrificio di Procolo di Claudio di Giovanni che pette i 10 euro dalla benzina per andare a fare una partita di campionato con i propri ragazzi signori il comune deve stare al fianco ed è quello che ha fatto Claudio Perri come assessore ha deciso di scendere in campo ed essere al fianco delle associazioni sportive dilettantistiche perché lo meritavano e i risultati caro commissario sono quelli che probabilmente qualcuno forse le ha raccontato oppure se va a prendere i giornali da una ventina d'anni a questa parte si renda conto di quello che è stato lo sport a crotone e grazie a che cosa grazie a questi impianti che abbiamo avuto la possibilità di poter utilizzare ma con una compartecipazione del comune altrimenti non sarebbe stato possibile e io lo ribadisco ancora signori amici sportivi quelli che siete mi state guardando quelli che avete fatto sport come me avete buttato il sangue grazie 10 volte 1000 100.000 volte grazie è importantissimo perché poi ci sono delle favole Claudio che possono essere raccontate anche qui come merchandising parliamo del professor Mimmo Borrelli che faceva proprio quello di cui stavamo parlando con i propri concipione prendeva i soldini ne andava a prendere e poi è diventato il più grande professionista preparatore riconosciuto nella serie A quanto è importante il valore dell'Atalanta te lo metto per iscritto lo conosco molto bene con Mimmo abbiamo collaborato a parte l'amicizia che c'è anzi che passione lui anche che esempio non hai idea non hai idea io una volta sono stato a casa sua ho aperto il computer credimi di ogni atleta aveva la scheda sapeva perfettamente ieri quanto aveva fatto sui 50 metri sui 100 le ripetute c'è una cosa veramente uno studio impressionante Mimmo Borrelli è un grande è uno dei migliori elementi che lo sport clotonese ha prodotto io sono orgoglioso e fiero di averlo come amico e sono orgoglioso e fiero tifo Atalanta che ti devo dire no no poi ci ritorniamo anzi lo collego subito con il discorso finale no cioè quello dell'aspetto programmatico perché poi ecco i valori che hanno spinto professionisti come Antonello Irtuso Fabrizio Meo che è stato per te fondamentale in quell'esperienza no quelle persone che ancora oggi si sono spese e si spendono per difendere gli interessi dello sport per davvero preannunciano quello che caro Claudio poi è fondamentale no cioè che tutti noi ci si svesta da di protagonismo io 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 e si abbia la voglia di stare assieme perché poi questo lo sport ci insegna ci deve insegnare quando ieri praticamente leggo il comunicato come dire lo sfogo del commissario che ci può anche stare ripeto e posso anche capirlo ma caro commissario cosa si poteva aspettare dai giornali dal mondo dello sport che le dicessero grazie per quello che ha fatto cioè noi qui stiamo vedendo delle tariffe che sono veramente allucinanti cioè noi qui stiamo vedendo poi tra l'altro ieri sera vengo in possesso di documenti che viene firmato un precontratto per lo stadio per 100.000 euro mi sembra una quota ragionevole però poi vado a vedere che al Palamilone all'anno verrebbe fuori per 10 mesi di attività 326.000 euro al Palacro 135.000 al settore B 40.000 ma allora a questo punto gli ho chiedo io ma siamo su scherzi a parte c'è lo stadio 100.000 euro 326.000 il Palamilone e che ci facciamo un concerto di Vasco Rossi e Zucchero tutte le settimane ammesso che sia compatibile anche dal punto di vista acustico questo è un altro tipo di discorso ancora facciamo dei concerti del genere probabilmente riusciamo a coprire i 326.000 euro con lo sport dilettantistico che c'è dentro se non diamo una mano come Comune di Crotone quella struttura rimarrà abbandonata e sarà un danno erariale caro commissario e non è soltanto il discorso che riguarda il Palamilone lo stesso discorso riguarda il Palacro e il settore B il settore B recuperato ai tossici alle prostitute perdonatemi ma ve lo devo dire alle corse in motocicletta sulla pista alle sgommate con le macchine sul terreno di gioco per far alzare la polvere andate a parlare con la gente che abita di fronte quando l'abbiamo assegnato al consorzio gestito da Francesco Caruso la gente è venuta a ringraziarci l'abbiamo reso fruibile ai cittadini che lì dentro andavano a fare attività liberamente senza pagare un centesimo erano a disposizione tutti quanti li facevano allenare tranquillamente compatibilmente con quello che erano le esigenze della tetica leggera e del calcio dilettantistico del football americano perché queste sono un'attività che si fa ma di che cosa ma veramente io mi metto le maniche allora a questo punto dico benissimo il commissario però dà la responsabilità ad Acrea di non aver saputo adeguatamente spiegare che quella cifra oraria quella quota oraria significava che più associazioni contemporaneamente possono utilizzare la struttura e che facciamo al palacro che c'è un unico campo di gioco lo dividiamo in quattro perché sono quattro carate palla a canestro e palla a mano facciamo dieci metri dieci metri allora ogni dieci metri è un'attività e quindi dividono i settanta euro orari per quattro e le pallonate che arriveranno in faccia a quello che sta facendo carate con un pallone di basket che magari ti frantuma il naso quindi ma signori ma avete contezza di che cos'è lo sport ma siete mai ma siete mai stati a vedere non dico a gestire una società ma avete mai visto che cos'è lo sport che cos'è una partita l'avete mai vista ma di che cosa state parlando e allora attenzione perché questo lo rimarco perché se questo viene per inciso stabilito che non è possibile perché non si possono al settore B si può fare atletica leggera e calcio dilettantistico le società minori che non avevano un'altra struttura perché lo stadio è di monopolio del crotone calcio praticamente allora lì nel settore B si può fare contemporaneamente un paio di attività nel Palamilone ma non sulla struttura magari in quei sottoscala e li ritenete delle zone idonee per poter fare attività un sottoscala è giusto che il Muatai che è un campione internazionale si alleni in un sottoscala no non è possibile e allora siccome questo non è possibile queste tariffe sono assolutamente improponibili perché non si può fare attività tra più associazioni sportive che dividono gli spazi e se questo è assodato caro commissario e caro chi ha formulato queste non so se a Crea o chi ha formulato queste tariffe le devi rivedere assolutamente perché sono ridicole ma ridicole non te lo dice Claudio Perri te lo dice il CONI nazionale te lo dice Sport e Salute nazionale te lo dice il CONI regionale te lo dice la federazione direttantistica gioco calcio nazionale direttante gioco calcio te lo dicono tutti gli sportivi che hanno contezza di che cosa è lo sport grazie professore grazie abbiamo tentato di nuovo di fare un po' di chiarezza e soprattutto di metterci nelle condizioni di comprendere che anche soprattutto in questo momento di campagna elettorale questo è l'invito cerchiamo di fare meno chi acchiappa la notizia la riproduce ci cavalca sopra ed ascoltare mercoledì gli sportivi e soprattutto sostenere no l'ultimo appello te lo faccio fare a te con grande piacere Claudio e sostenere chi in momenti insospetti ha condotto una battaglia meritoriamente l'abbiamo detto prima il presidente del consorzio momento di Gloria Satiro gli avvocati che hanno sostenuto la loro battaglia in maniera assolutamente meritoria veramente senza alcun tubio anche mettendoci la propria faccia la propria professione a questa disposizione perché poi quelli che contano sono quelli esperti che conoscono lo sport come Claudio prego Claudio io volevo chiudere con ancora una volta un appello che voglio lanciare al commissario perché nel ribadirle la mia solidarietà la sua amarezza che posso capire però commissario ha cercato io mi ero addirittura proposto di essere come dire una persona che eventualmente si poteva sentire per spiegarle che cos'era lo sport a crotone per spiegarle quali erano le problematiche per spiegarle un pochino come si poteva organizzare la cosa perché si può organizzare la cosa e l'ho detto prima nel corso dei miei precedenti interventi con una compartecipazione pubblico privata gli oneri certamente addossati alle associazioni sportive ci sta assolutamente sì però di conto il comune dovrebbe poi garantire come dire una sorta di contributo a parziale copertura delle spese sostenute perché questi consorsi e questi consorsi queste associazioni sportive lavorano per la città lavorano per i nostri ragazzi per la nostra immagine per la loro crescita lavorano per tante cose che non è sicuramente quella di mettersi soldi in tasca io quello che volevo chiedere poi commissario e sono sempre a sua disposizione se vuole incontrarmi la prego la smetta di dire che gli affidamenti fatti dall'assessore Perri e dal dirigente De Martino erano illegittimi perché prima di fare quello che abbiamo fatto abbiamo studiato bene le carte e quando abbiamo fatto quegli affidamenti diretti sapevamo che c'era la scappatoia la scappatoia c'era e quella che ha trovato lei perché se io leggo un'altra cosa da sottolineare una grande attenzione e ci sta tutto perché il Crotone Calcio deve come dire deve comunicare qual è l'impianto dove giocherà ci sta tutto qua è un commissario ma questo non ce l'ha soltanto il Crotone Calcio questo come dire obbligo ce l'hanno anche le altre società sportive che non sanno che cosa devono comunicare la palla a mano la palla a volo la palla a canestro le squadre di calcio a 5 la palla a nuoto non sanno che cosa devono comunicare quale sarà il campo di gioco quindi tutta questa attenzione l'abbia per tutti e poi quest'articolo 63 l'ho trovato comma 2 decreto legge numero 50 del 2016 consente l'individuazione del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione e bando di gara come? fino a ieri era obbligatorio il bando di gara commissario siamo stati tacciati in altro poco praticamente la gente ci vedeva prestati dei delinquenti tu e De Martino avete firmato queste cose signori noi l'abbiamo fatto per la città per lo sport e la città e l'abbiamo fatto potendolo fare perché le leggi ce lo consentivano l'abbiamo fatto nel 2012 la legge è cambiata nel 2016 e guarda caso però anche nel 2016 lei ha trovato o chi per lei ha trovato il modo di poter dare come dire lo stadio in affidamento diretto senza nessun bando di gara e lo come dire lo giustifica dicendo che non c'è un'altra società interessata che faccia la Serie A e chi gliel'ha detto e se è interessato qualcun altro per un'altra disciplina sportiva a prendere lo stadio di uscita come la mettiamo ma di che cosa stiamo parlando commissario la prego la prego si rivolga a persone che hanno competenze ed esperienza dello sport e vedrà che andrà via da questa città quando sarà il momento con un atteggiamento diverso da parte dei cittadini che le riconosceranno la capacità la sensibilità l'onestà morale intellettuale di aver riconosciuto un errore che sta commettendo di essersi confrontata cosa che non ha mai fatto con le associazioni sportive direttantistiche il crotone calcio però l'ha convocato e quindi qualcuno magari le dirà grazie per essere come dire stata capace di fare un passo indietro e di essere venuta incontro a quello che è una realtà sportiva storica di anni 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 non parlo di Milone non parlo di Milone io parlo da 50 anni a questa parte 60 70 anni cosa è stato lo sport a crotone cosa ha rappresentato per i cittadini crotonesi quale motivo d'orgoglio dal calcio in serie A alla palla a mano la palla a nuoto in serie A2 ce voglio dire signori lo sport va aiutato lo ribadisco ancora una volta altrimenti lo avete portato alla morte altrimenti non parlo di Milone ma un mix davvero di Milone città